Sì, ora abbiamo questa settimana dove possiamo lavorare forte e bene perché poi ci aspettano tre partite fondamentali per il proseguo del campionato. Abbiamo visto il Lecce anche l'altra sera nel recupero la partita, la vittoria che ha fatto contro l'Ascoli, quindi il punto che abbiamo ottenuto noi qua è stato un punto importante perché il Lecce è veramente una squadra forte che potrà ambire fino alla fine alla promozione, secondo me, diretta. Come dicevo, per noi la settimana che arriverà sarà fondamentale, sono tre partite che potranno dire molto e dobbiamo farci trovare pronti perché per noi è troppo importante. Sì, sarà una partita difficilissima perché il Carpi è una squadra che ti fa giocare male, che fa un calcio particolare, tutto sulla grinta, diciamo, sulle seconde palle. Sarà una partita sporca che dovremo interpretare nel modo giusto, mettendo in campo però le nostre qualità perché senza quelle noi non possiamo, non possiamo prescindere da quelle, ecco. Forza Crotone? Certo, assolutamente, Forza Crotone, sempre. Personalmente, vale per me, la cosa più bella è poter rappresentare una città, poter rappresentare una città facendo lo sport, secondo me, più bello. e quindi sapere che ci sono tante persone che giudicano per me e che hanno a cuore così i soldi di tutta la scuola e quindi quella città è una cosa più gratificante e più bella vedere che ci possa essere. Bene. 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 Bene.